sulla destra spinge adesso Bigoni adesso usa un palleggio attenzione palla sul destro fino a questo momento il Chiedi non ha fatto nulla per impensierirsi vediamo Petrilli rientra col destro Petrilli prova la palla dentro per per Rana viene stessa ancora Petrilli Luca sulla palla la barriera si avvicina ancora di più Luca la palla viene bloccata a terra sulla sinistra dal portiere Feola